E adesso non tentare di svignartela, eh Topolino? Basta così! Pippo, se costui è morto 150 anni fa, non conosce certamente il buon... Signori di Io Pippo, è stato un piacere avervi con me fino a questo momento. Adesso è arrivato il momento di salutarvi. Sempre viva Io Pippo! Basta che non chiamate questo momento, pippare insieme, perché sembrerebbe sbagliato. Un saluto! Evviva Pippo e Topolino! Che? Cos'è? Ciao Mario, capisco, è lei tua dipendenza. Non senti? Stai facendo finta! Stai facendo finta, non hai parlato! Che è sta posizione di stallo? Ciao! Mario, non ti sento! Ma non è vero, mi senti? Ma che è sta cosa? Come i figli di p***a di inizio live! Non ti sento! Ti senti? Mi senti? Mi senti? Non ti sento! Mi senti, Dario, mi senti? Sa, sa, sa! Mario! Sa, sa, sa! A posto! Ma che gioco di merda è? Ho sentito dalla tua... Cosa stai guardando? Il monitor? Guardi i cristalli liquidi del mon... Non si sente da là, sei con le cuffie, rincoglionito. Sei con le cuffie, te le sei tolte per sentire. Sì, dai, dai. Ora hai buttato un po' di saliva. Eh, adesso devi pure lavare dopo, che poi si incrosta. Lavi dopo, no? A posto. Allora, imbecile, se tu... Non chiamarmi imbecile, non chiamarmi imbecile. Allora, se arrivi in ritardo, ancora... No, 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 questa è un'invenzione! No, 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 figlio di p***a! Invenzione! Io ho visto che stavi parlando di cinema e mi sono messo a leggere io, Pippo! Eri in ritardo, c'era di te che imitavi Topolino. Doppio danno per me, perché non solo... Non solo hai fatto ritardo per leggere io, Pippo, ma ti sei permesso di imitare Topolino. Brutta merda che non ne sai nulla, caprone del c***o. Ah, posso anche essere il più grande ignorante del mondo, Topolino e Bepperi. No, non ne puoi parlare. Topolino è del popolo, è dei bambini, non è di sto gran c***o che ti senti tu. Topolino è di tutti. Non è di tutti, è mio. Eh, no, eh, capito, questo è proprio profondamente sbagliato. E' profondamente sbagliato perché non ti calcolo l'emozione. Quando io leggo lo che ti ho e vedo le sue azioni, vedo il richieste così disperato, io non riesco a non farmi prendere il cuore, farlo straziare con questi rovi. Perché io sono un teatrante, io sono uno che si emoziona. Io sono uno che dell'amicizia ha fatto un potere, ma batterà c***o imbecille. Uno che dell'amicizia ha fatto un potere è una frase ridicola che non direi mai. Io dell'amicizia ho fatto il potere Thanos. Fa una cosa del genere. Grande domanda, ragazzi, concordate. Non è ancora iniziato Talent Scout, non è ancora fatto nessuna domanda. Sei ridicolo, tu sei il re dei pagliacci. Allora, ora devo trovare però... Allora, no, ce l'ho già il talent, devo solamente chiamarlo, ok? Ok. Bravo, sfogati adesso così cerchiamo di fare una cosa come si deve dopo, dai. Aspetta che non so se mi ha accettato il pene. Aspetta un attimino. Ma non penso che ti debba accettare il pene. Mario, Mario, Mario. Forse hai sbagliato a parlare. Ti deve accettare la richiesta su Discord. Il pene non te lo deve accettare. Non ci devi... Mi fai qualche spoiler, è un uomo o una donna? Dovrebbe essere una ragazza. Io ho gaggiati due. Dovrebbe essere una ragazza. Aspetta un attimo. Allora hai due scelte. La ragazza simpatichina. O il salto nel buio. Queste sono le tue due scelte. Per me è molto più affascinante il salto nel buio. Ok. Però con la ragazza simpatichina, diciamo che vai... Siamo più protetti. Io se mi hai chiesto cosa preferisco, preferisco... Però voglio... No, vabbè. Sì. Che è sto George Clooney prima di iniziare l'intervista? No, che cosa? Ti sei messo a ridere perché ti ho scoperto. Facciamo una cosa, Mario. Eh, sì. Dato che... C'abbiamo il salto nel buio e la ragazza quadrata. Perché non tutte e due? Vai, buttali dentro tutti e due. Lo faccio subito. Buttali dentro tutti e due. Aspetta. Sempre peggio comunque. Dai. Pronto. Se vuoi puoi attivare la cam, eh. Tranquillamente. Aspettate. Non si asbedda quando vuoi. Aspetta. Eccoci. Parla normale. Sì. Eccomi. Eccoci. Ciao. 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 Sono la ragazza simpatichina. Esatto. Sì, sono la ragazza simpatichina. E loro immagino siano il salto nel buio. Ciao a tutti. E benvenuti nella puntata di Double Scout. Il Talent Scout è madoppio. L'ha inventato adesso. È una puntata di Talent Scout come tutte le altre. È double. È double. È non urlare. Non urlare. Non si sente nemmeno. È Talent Scout, ovviamente. Anzi no. Triplo. Perché vedo anche una simpatica presenza. Sì, esatto. Siediti. Esatto. A voi sembra normale. Hai fatto un soffocotto al microfono? No, no. Mi sono allontanato. Oh, come ti permetti di dire queste cose? Ci sono anche delle ragazze. No, no, no. Che cosa c'entra? Che le ragazze si offendono se si dice soffocotto? Non ho capito. Non si sente. Io con il cuore ci faccio. Io ci espremo la mia persona. Non basta. Basta fare il siciliano. Cominciamo con Talent Scout. Allora, benvenuti ragazzi. Oggi vi ho selezionato perché ho visto che te sembravi un drogato di merda e lei invece sembrava... No, no. Ma come ti permetti? Cioè, se sei offeso da questa cosa, di là pure. Di pure che sei offeso. Se vede tanto, se vede. Se vede tanto, sì. Sì, sei un po' stonato. Ma quello va bene. Pochissimo, dai. Poco, poco, poco. Ha fatto una faccia... Che non esiste. Mantiene l'applomb, diciamo. E poi abbiamo questa ragazza un po' nerd, no? Si può dire con passioni un po'... No? Riusciamo a... Eh, niente, niente. Eccoci perfetto. Descrizione perfetta. La descrizione di un aggettivo è praticamente una danza. Vuol dire che finiamo domani. Allora, facciamo un giro di nomi. Eh? Che dite? Vai, Mario con il giro di nomi. Oh, oh, oh. Non serve a lanciare tutto. Dai, vai, cominciamo. Io sono Mario. Lui è Dario. Voi chi siete? Prego le signorine prima. Ludovica. Io sono Marta. Tu sei Marta. L'altra signorina. Io sono Valerio. Valerio. Ciao, Valerione. Valerione. Eh, Valerione. Eravamo... Eravamo... Eravamo tutti. Allora, io vi dico già che sono innervosito perché mi ricordo dall'ultima volta che non mi è stata accettata alcuna domanda. Ogni volta che faccio una domanda sensata io sono quello che viene... Che c***o stai mangiando? Questo cremino, Mario. Sì, ma adesso ti sei aperto il cremino mentre dobbiamo fare l'intervista. Dai. Sono i cremini più buoni tutti i tempi. Parti con... Non ci credo mai. Adesso ne hai parlato dei cinema, no? Il gelato, dei Galli Cari, dell'amore tossico. Ma io ti amo, fratello. Se sei comprato il gelato. Così mi hai... Allora da 5.000 lire dove sei preso il gelato. Ma dobbiamo... Mi hai comprato, mi hai comprato così. Allora fai la prima domanda. Fai la prima domanda a Valerio. A Valerio. Al binomio Valerio Marta. Al binomio Valerio Marta. Dato che sei così appassionato di cinema e ti vedo così... Ma insomma, sono più fluidore io, diciamo. Fluidore, amatore, 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 amatore. Ti volevo chiedere... Una volta amatore, se no, quattro volte non significa niente. Noi ci siamo quadrupli. Quindi ho detto... Comunque... Chi c***o sei? Come ti permetti? Ma come ti permetti? Io sono Valerio, sono di Roma. Eh, quello l'ho puntuito. Quello sei un'antuito. Sono di una borgata qua di Roma, che è Tur Sapienza. Io voglio vedere. E' porza! Eh, per forza. Faccio le live stream con la mia ragazza che ci sta insieme da più di 15 anni. Boia! Esatto. Mario in 15 anni cambia 30. Possiamo per favore non dire per forza, a parte questa bruttissima battuta che ha detto adesso Dario. Trento ma solo se sono le ragazze di altri, eh? Evidiamo... Cosa? Beh, evidiamo... Evidiamo per favore di dire per forza. Va bene? Tutti e tre? Siamo tutti d'accordo? Va bene. L'ho detto a te, Dario, perché tanto non lo so... Cosa? Eh, però... Per forza, per forza. Per forza, ho sentito un per forza. Non ho capito. Forse non hai capito la domanda, giusto? No, l'affermazione. Non si sente, Mario, quindi c'è un problema. Un problema con il microfono, credo. Ok. Aumenta, aumenta un po' l'autica. Mi senti? Mi senti? Mi senti? Ma mangia il cremino dopo. Vedo la bocca, man. Ok, non si può dire... Ah, grazie. Valerio ha detto che si sente, quindi non funziona più. Sai benissimo come funziona questa regola. Valerio forse sente delle voci. No, no, era Valerio. Porca miseria, era Valerio. Però è successo, no, di Roma anch'io. Ogni tanto si sono tipo le voci. È vero. Cioè, delle urla. C'è. Può essere che ascolti questo. Allora, faccio una domanda a te. Hai detto che ti chiami Ludovica, tu? Sì. Ludovica. Ma perché Lupin? Perché di Ludovica tenne l'inizione del cognome. Ma no, hai reagito. Hai reagito prima della spiegazione. Hai reagito prima della spiegazione. Hai reagito prima della spiegazione. Ancora non lo sapevi cosa voleva dire. Ancora non lo sapevi cosa voleva dire. Hai risultato prima di sapere la spiegazione. Ludovica, ti faccio sta c***o di domanda che è la prima. Allora. Non fa così, bro. Non fa così. Perché non si diventa seri se congiungi le mani alla Tenzing. Allora. Sì, vabbè. Tenzing. Questo è Mario nella coppa delle fighe fidanzate. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non faccio così con le fighe fidanzate. Ludovica, ti faccio questa domanda. Ok, ci siamo? Sì. Cosa fai su... No. Che sta... Guarda, non è una domanda molto difficolare. Sei stupito da che cosa? Ho fatto la domanda generale perché non volevo che si facesse la domanda. Fai parlare! Fai parlare! Scusami. Scusa la maleducazione. Ma è Mario, vabbè. Eh, si sa com'è Mario. Sono tutti organizzati contro di me qua stasera? Va bene, vai, vai. No. Chatto. Just chatting. Gaming, anche se non so giocare. Pixel art, anche se non la so fare. Quindi un po' di cose che non so fare, ma le faccio comunque. Ma te fai come attività collaterale o hai anche un altro lavoro? Ah, sto cercando lavoro. Quindi al momento sono tu. Ah, ma sei giovanissima. Quanti anni hai? Quasi 28. Di solito, di solito... Ah, poi ne mostri meno. Di solito si dice dopo, dopo che si sa l'età, che è giovanissima una persona. Se no sembra una presa per il culo. Ho detto sempre giovanissima. No, dico Ludovica... Dai Mario, non mi prendere questo complimento che mi ha fatto. No, no, non volevo prendere nessun complimento. Non fare quella faccia, non ho fatto niente. Non fare quella faccia. Anche perché Ludovica dimostra 10 anni più di te, quindi insomma... Io non voglio assolutamente far trasformare il complimento in un'offesa, è come mi dipingete. Valerio e Marta invece, quanti anni avete voi e come gesti... E' un tasto da lente questo, siete sicuri che volete sapere la risposta? E non se quanti ce ne date. Allora, bisogna fare... Ma potete essere cattivi. Esatto. No, 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 perché... A questo che marcavo male, come si dice a Roma. No, no, io non... Se non volete dire la vostra età, io posso anche ritirare la domanda, non voglio offenderti. No, 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 ma perché no, no. I bombardoni invecchiano più che altro, capito? Quindi bisogna capire... Lo dico, dai, ho 36 anni io... Ok? E Marta forse non lo vuole dire. Hai detto? No, 35, in realtà. 35. Scusate, mi sono dimentica da una piccola devagliata. 35. 35. Ok, ma vivete questa età con particolare imbarazzo, crisi, difficoltà? Ma io mi sento un adolescente dei 36 anni. Eh, esatto. Dai, chiudi la bocca. Sì, è una seconda adolescenza, tipo. Una seconda adolescenza? E come mai te la senti così? Cioè, cos'è che, secondo te, è simbolo di una seconda adolescenza? Ma, risento quasi... Ho ricominciato a vivere quei sentimenti che erano dispenseratezza, quelle di lanciarmi verso qualcosa che non conoscevo tipo stasera. E come ci sei riuscito? Perché non è così facile. Però ci sei riuscito facendo un sacco... Beh, anche grazie a tutti. Esatto. È stato quello che proprio mi ha... Un po' asservato a me personalmente. Diciamo che non veniva da un periodo particolarmente buono. Poi, in più, noi come lavoro facciamo... Siamo entrambi graphic designer. Lavoriamo anche insieme. Ah! Mi ricordo che avevo visto le prime live... Grafic designer, scusa se ti interrompo, ma in che campo? Fate loghi, cosa... È incredibile che quando rientra il mestiere dell'arte, dell'illustrazione, diventi automaticamente serio. Si è ridicolo, bro. Basta che trovi qualcuno che disegna o che crea dalla c***a di tavoletta grafica, non c'è più voglia di scherzare. Non è giusto. Perché poi esci fuori dal personaggio. Cioè, questa è una defaianza che ti faccio una critica davanti a tutti. Ci può stare, no? Che faccio una critica davanti a tutti. Ma siete freelance o siete dentro uno studio? Oh, ho parlato! Non mi puoi calpestare in questa maniera! Voi non potete rispondere! No, scusami. Allora, mi sono laureato, ormai sono passati dieci anni, no, undici. Quindi hai undici anni di professionismo tuo? Sì, perché ho iniziato a lavorare paradossalmente pochi mesi dopo che ho finito la laurea, perché ho finito a luglio e poi ho iniziato a lavorare ad ottobre. E non mi sono principalmente mai fermata. Ho lavorato in varie situazioni. Ho fatto in agenzia, agenzia pubblicitaria, un'agenzia che organizzava eventi. Ho lavorato sei anni in una rivista. Poi dopo questi sei anni praticamente mi sono accartocciata su me stessa, che era prima della pandemia, ho detto vabbè sai che c'è, avevo un po' di clienti, devo dire la verità, comunque avevo dei clienti che mi potevano assicurare un mensile e quindi ho detto vabbè coinvolgo lui e ci mettiamo insieme e facciamo questa cosa. Ah, quindi è stata la tua idea quella di aprire tu? Ah no, l'ha stata sua, ma tu c'era indipendente da tutto questo. Ah, ok, ok, ok. Ma voi abbracciate uno stile più flat oppure più giocoso come Logie oppure rimanete molto quadrati nello stile? Dipende dall'esigenza del cliente. No, fate un po' tutto. La cosa purtroppo è che io dico sempre nei live, esatto, c'è te aveva sempre ragione, purtroppo, io mi ricordo, c'ho questa cosa dovevo sfondo blu, mi ricordo che c'era uno e avevo fatto un progetto in bianco, leggero, tutto questo stava in fissa e volevo sfondo blu, ma c'è stata una merda, però io ho dovuto mettere per forza, capito, io ci soffro un po' di più, lei invece è più, lei riesce più, esatto, ma vorrei perché io a differenza se faccio un altro tipo di lavoro, cioè io il grafico l'ho fatto, ho fatto di tutto una vita in meta nel grafico fino all'ultimo, invece sono proprio andato a scegliere scuole superiori, quindi c'è strana come cosa, ho fatto vari lavori, vabbè, così anche un po' di fortuna, poi proprio durante uno dei miei lavori, mentre stavo a lavorare al supermercato mi fermò un signore che c'era un'agenzia pubblicitaria che serviva un account e mi parlò di questa situazione e ho iniziato a lavorare a questa agenzia e fondamentalmente il mio lavoro era quello di interfacciarmi col cliente e trovare nuovi potessi clienti, sì, di Roma, là sarà la Lugufullu sicuramente, sì, diciamo di sì, è una cosa che sta quasi ho capito tutto, fermi tutti, fermi tutti, come hai detto che si chiama Dario? Dario? Dico come si chiama, grazie, grazie Ludovica, cerchiamo tutti Lugufullu su internet Io sono di Roma, lui è di Roma, esiste, esiste, no Ludovica, basta, ho capito tutto, Ludovica non puoi, non puoi avere questo, non puoi permetterti di fare, non puoi farmi fare la figura del coglione, la Lugufullu non esiste, non si trova su internet, certo che non si trova, nel 2023 c'è un marchio che non si trova, non è possibile, non si trova, non si trova, si trova, si trovano loro, non li trovi te, non ho capito Marta, come cerchi di salvare, è segreto, però ne abbiamo appena parlato davanti a tutti della Lugufullu, famosissima, come capo c'è Cecco Brandolieri, Cecco Brandolieri a capo della Lugufullu, va bene, non esiste, è limitata dal nonno, allora cerchiamo, sì, Giufrullu, Brandolieri da qui, da qui, non esiste la Lugufullu, continuiamo con le domande, ma non esiste la Lugufullu, mamma mia, ma poi tutti quanti allineati perfettamente, quattro cristiani che hanno capito, viva la Lugufullu, lui ha avuto un attimo di esitazione Lugufullu, è quello là che si gira e ride come un figlio di c***a, qual è, Dario Moccia, sì, 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 ti ho chiamato così, Dario, è caduto il cucchiaino per terra, visto, chiaro, allora, 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 vogliamo fare una domanda a Ludovica, Mariocchino? Forza, come? Per forza, dicevo, vuoi fare una domanda a Ludovica, Mariocchino? No, no, mi chiama Mariocchino, una dice per forza, ditemelo prima, che ecco, eppure questa cosa, no, mi sto mettendo a piangere, eh, fermiamo tutto, mi sto mettendo a piangere. Ma cosa, per il naso? No, 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 non per il naso, che c'è lei che dice per forza, e ho chiesto di non dire per forza. Ma per forza a Roma si dice tantissimo! Non si dice tantissimo, si dice perché lo dici te, Dario, dai, stengo Romano. Te dico fermati! Te dico fermati, invece di per forza te dico fermati, va bene. Non intercalare! Apri questo di occhi. Ludovica, che lavoro fai? Come ti inquadri con una parola? Magari non è proprio semplice, allora dilla, di una parola che ti avvicina alla tua passione. Allora Mario, però, non mi hai seguito, perché ho detto che sto cercando lavoro. Eh, no, 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 l'ho seguita, l'ho seguita, infatti ho detto in cosa ti identifichi proprio, perché non tremare così, non è nessuna situazione stressante. Ho detto dove ti collochi, ho capito che cerchi lavoro, ma dove ti collochi? Va bene, hai ragione. Non ho mai visto così tanti ads. Il microfono che non funziona. Hai provato la Lugufullu? Ah, proprio così divertente che la riproponiamo. Dopo cinque minuti la Lugufullu. Bravo Dario. Minchia, mi sembra proprio una scelta. Vai, vai, Ludovica, per favore. Allora, ma in realtà adesso un po' do coio coio, perché io ho fatto un anno cinema, vabbè, ma vent'anni fa, e poi ho fatto teatro, è andato un po' un casino, quindi al momento do coio coio, diciamo. Capirai. Che vuol dire in do coio coio? Do coio coio? Dove trovo, trovo. Sì. È aperta alle opportunità della vita. Sì, esatto, esatto. Ok, ok, ho capito. Vai, Dario, facciamo una domanda magari questa volta, che ne so, per tutti e tre, visto che abbiamo, ci siamo concentrati singolarmente. Allora, si parla tanto di Roma come una città invivibile. Se la stai inventando ora, se la stai inventando. No, no, l'ho scritta. Fammi vedere. Sì. No, però non è una presa in giro, questa volta è vero. No, no, se la sei. L'ha fatto vedere in giro. E facciamo al lupo al lupo. Era una bella, sembrava una bella domanda. Insomma, viene vista come una città invivibile, una, che ti mette alla prova in qualche maniera e per qualcuno è un vantaggio, perché poi, quando vi trasferite in altre città, è tutto in un certo senso. Ecco, voi pensate, ora voi siete già avviati, voi coppia, no? Cogli quella città di mano dalla videocamera. Però Ludovica sta cercando lavoro, quindi pensi a un trasferimento oppure Cratelli? Allora. Ma allora che cosa? Detto Cratelli, cosa vuol dire? Anche un anno fa non pensavo di spostarmi. Mario, per cortesia, grazie. Muto. Vai! Però diciamo che è diventata un po' come la situazione, un po' come avere Mario in questa chiamata, un pochino ingestibile. Eh, lo so, lo so. Quindi... Penso a te, penso a me. Non fare, non di te in questa maniera così tanto vittimistica che sono io da essere la vittima della situazione, lo sappiamo tutti qua, eh? È vero. Marta, cos'hai da dire? Marta, ti vedo ispirata, ti vedo ispirata. Marta, dimmi tutto. No, no, vabbè, però, io sono neutrale. No, vabbè, però, io sono neutrale, ma pensavo che stessi per spezzare la più grande delle lance a mio favore. Eh, infatti, no, è così, eh. Aspettiamo un po', vediamo, vediamo. Ma lo devi ancora valutare un pochino prima di... No, non volevo nemmo nemmo lo spazio. Ludovica, Ludovica, pensando che Cratelli voglia dire rimanere nella propria città, Cratelli o fuori? Ma cosa c***o ridi, l'hai inventata te? L'hai inventata te? Non so, ho detto dagli altri, mi fa queste cose. Vabbè, vai, 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 Cratelli o fuori? Forelli esiste. Cratelli? Forelli. 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 Che c***o dite tra tutti? Hai detto Forelling? Hai detto Forelling? Hai detto Forelling? Divento completamente pazzo, spacco tutta la postazione. Parlavamo, parlavamo di Cratelli, che c'entrano i Forelling. Che c'entrano i Forelling. Aspetta, aspetta che c'è. E' anche un contributo della chat, c'è anche un contributo della chat. Vinzo dice Cratelli nel puzzo, che comunque ha una sua dignità. La cosa più stupida che abbia mai sentito, che continua ad alimentare questo circolo di demenza che abbiamo creato inconsapevolmente e che adesso sembra divertire tutti tranne il sottoscritto. Vuoi rimanere in quella c***a città, Ludovica, o te ne vuoi andare? No. Oh, a posto. Fa schifo, è bella, ma fa schifo. Che vuol dire? Che è una cosa da Romani. Eh, però, eh, questo, questo è un po'... Non lo capisco io. Questa, questa... Siediti, siediti, che stai facendo? Questa è un po' la tua anità, Gio, ma no? In certo senso. Sì, è proprio più... La cosa da Romani che l'ami, però la ho, cioè... Ti posso? No, dai, Dario, è la tipica camminata da... Non ci hai mani, ti fa girare mani. Questo è la, questo è il Maranza che parla seduto nel suo posto, parla sul posto. Sì, ma dovrebbe far girare più le mani. Sì, è un po' la citazione. No, è una citazione. Mi posso grattare il pacco quando te lo chiedo? No, 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 no. Eh, vabbè, ma non è il momento di fare la citazione. Non è che siamo legittimati a fare le peggio porcherie perché stiamo citando qualcun altro. Già, Brunata! Comunque, a parte questo... A parte questo, invece era un intercalare. Non sentite odore di libertà in chat. Non si sente alcun odore di libertà in chat. Eh, ma anche io qualcosa... No, 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 no. Voi sentite odore di libertà, ragazzi? Io sì, personalmente la annuso, no? Però... Liberi, 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 poi liberi da che cosa? Spiegaci un po' questo concetto. Spiegaci un po' questo concetto al buono. Non lo sa, non lo sa. Valerio, spiega il concetto della... Liberi, 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 poi liberi da che cosa? Vai. Eh, è vero, la verità, cioè, se consideriamo liberi, beh, a fine in realtà non siamo liberi. Siamo tutti quanti schievi di qualcosa in un modo o nell'altro. Che sia un affetto, che sia un interesse, che sia una cosa di cui non puoi far meno. Che si insugna. Che sia una cosa proprio naturale dell'essere umano, cioè averci quel senso di sublimazione, che può essere per te, magari io, o per noi, mettesi davanti a una videocamera. No, no, non dico... Non dico... Cioè, mentre stava parlando hai simulato un bocchino enorme. Un appellato. Hai simulato un bocchino enorme, mentre quello ti stava interpretando il concetto di libertà. Ma ti dai una c***o di calmata e dai giustizia alla situazione. Mentre quello ti parlava di libertà, facevi così. Fermi tutti, fermi tutti. Fermi tutti. Allora, ringraziamo Saitama con il big cock. Stavo ringraziando Saitama che ha domato 50 bombolozzi. Ora però, c'è qualcosa che è stato detto dalla Chilling Factory. Qualcosa... Cioè, perché il sesso orale dovrebbe essere simbolo di libertà assoluta? Scusate, ragazzi. A questo lo voglio chiedere. No, è la libertà di poterlo fare. Guarda, io cito un vecchio slogan. Perché c'è stato tanto pregiudizio poi. Io cito un vecchio slogan. Non c'è rivoluzione se prima non c'è la rivoluzione sessuale. È la verità. Ma è fucking fada. Allora, dillo in italiano. Esatto. Dillo in italiano se non sembra una cosa finta. Comunque... Let's talk in English. Perché proprio Chilling Factory? E perché, allora, guarda. Proprio inizialmente per mia necessità volessi uno spazio proprio di condivisione dove la gente poteva venire e poi la sentisse libero e parlare di quello che gli pare. perché noi facciamo fondamentalmente è just chatting. Poi portiamo anche altri format. Cuciniamo. Facciamo tipo... È un format che si chiama la Dusspag in Chile e si mettiamo a cucinare ricette tipiche romane, romanesche. E giochiamo anche noi. Siamo appassionati di RP. Prima con GTA. Adesso con Red Dead Redemption su Servreddevarnera. Top. Mico! E poi niente, no. Io la cosa che volevo creare era proprio questo. Cioè, uno spazio dove ognuno si poteva sentire tranquillo di parlare di qualsiasi cosa. Un po' come se fosse una comitiva. Un giorno parli di cinema, un giorno parli di quello che hai visto in televisione, un giorno parli di una cosa che ti ha fatto riflette, un giorno ti parlo io di una cosa che mi ha fatto riflette a me e voglio sapere che ne pensi di. E devo dire che c'è stata quella gente che nella nostra piccola realtà ovviamente si è pure esposta in maniera pure significativa. Sì, abbiamo conosciuto anche persone della nostra chat perché poi alla fine si crea un legame. Ah, proprio uscite con la vostra chat. Quindi abbiamo proprio fisicamente a trovarli. Ah, minchia, non avete paura del pubblico come Marco Merrino? Assurdo. Vabbè, ma non è che è paura. È che è un tipo un po' così, sulle sue. Non è proprio il sentimento. della paura. Noi abbiamo visto il Travani Comics e l'ho visto più tutt'altro. No, no, vacillatissimo, fratello, calcolato. Vabbè, non parlare come un idiota, Dario. Allora, Ludovica, dici tutto, dici tutto. Però prima devo formulare la domanda. Vai. Stava caricando, sì. Qual è la spinta creativa che ti ha portato ad aprire il canale? Vabbè. Allora, fondamentalmente spinta creativa, che, allora, non mi piace troppo parlare con le persone realmente, però, tipo in chat, sì. Quindi mi trovo una cosa che mi trovo a mio agio, nonostante faccio fatica. E, vabbè, in realtà, l'ho cominciato così per cazzare, onestamente proprio a cazzare. Poi, la cosa principale è che mi diverte, quindi, poi, la cosa creativa, in realtà, sono una coiona da sempre, quindi, ho portato le cose mie da coiona, le faccio in live, mi libera un po', forse, il concetto di libertà. e quindi, eh, ma, ti voglio fare una domanda su questo, ti voglio fare una domanda su questo, che cos'è che ti rende libera, in assoluto? Che cosa, è vera una domanda. Che cosa? L'inassimo. Ma, aspetta, ma, sbaglio, stai fumando e non bevi? No, no, la devi far finita, dai. No, fuma, fuma e bevi. No, non devi necessariamente farlo, non devi necessariamente fare quello che ti dice. Hai ragione, hai ragione, è una grave mancanza da parte mia. Come non bevi. Hai ragione, ma io amo bere, solo che solitamente non c'è mai nulla a casa. Hai ragione, però, Dario. Però hai un poster di Sakura. pure a noi ci piace bere. Certo. Beve non bevi come ce ne non bevi. Ho visto il poster di Sakura. Di? Di Sakura. No, quello sì, è vecchio. È vecchio. Peccato che proprio tra i tre, tra tutto il team c'è... Un tempo hai avuto e rotto, l'ho riattaccato. Viva Naruto, Valerione, hai detto. Sempre. Ma... Vuoi parlare di Naruto, Dario? Hai calcolato. Dai, non si parla un po' di Naruto, dai. Guarda, la vera esperta è Marta di Naruto. Vai Martone, raccontaci tutto quello che provi ogni volta che legge il Naruto. Magari mantieni una faccia normale. Le gente giapponesi che ci stanno dietro, tutte cose, tutto mi racconta. No, però posso dire una cosa. Sono tutto questo Naruto. Mi è piaciuto tantissimo, perché non mi aspettavo che parlasse, cioè che fosse un manga, che parla di guerra, ma in realtà il messaggio principale fosse la pace. A me questa è una cosa che mi ha stregato. Sì. Vero. No, 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 Dario l'hai mandato a f***o, eh. No, no, no. Ti ha mandato a f***o, eh. Dario mi stava facendo. Come si diceva. Vabbè, vabbè, vabbè. Come direbbe il grano tucco, non mi permetterei mais. Esatto, anche. Vai, come? Cagliato, mi è piaciuta. Ti è piaciuta? Mi è piaciuta, a me è piaciuta. A me queste cose tipo Erduke, 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 capelli, a Roma, queste cose le fanno ridere. Mi prendono un sacco in giro, perché io rido tipo, vabbè, questo forse è un po' troppo, però io rido ancora per l'uva passa e non saluta. Eh, quella, quella è un grande classico. Eh, vabbè. Un altro grande classico a Roma è, lo sai che è il gaggio? Questo non lo conosco. No, qual è? Questo non lo conosco. È quello che si mangia, come posso dire? Sì. Vai, vai. È quello che si mangia la merda, ma invece si pensa che sta a mangiare il formaggio. È un po' lunghina, però, eh. Eh, lo so, però è... Non la conoscevo, però. È storica. Ci riuscione quella è Thomas Milian dall'altro. Ah, Hermon Nezza. Eh, 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 su sto c***o non se scoreggia. Esatto, anche quello, anche però. Posso cercare di ritrovare... Thomas Milian è un grandissimo attore, potrà dare un attore. ma è un attore. varia di firme, proprio di Cristo. Michia ha fatto anche Erzolo, che comunque... Erzolo, Erzolo ne manca. Eh, se gli manca vuol dire che se l'ha inventato, era come quello di prima che non mi ricordo quello che avevi detto. Ma perché... Non serve giustificare. Giamaica, 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 caratteristica. Ragazzi, peli dentro i culi, culi dentro i peni, quella è una... Va bene, dai, fai una domanda, fai una domanda. Poi abbiamo divagarte. Non è una parola italiana quella. Mi spiegate... Mi spiegate ragazzi qual è la cosa che vi rende più liberi in assoluto nella vostra vita. Ah, nella mia... Allora, banalmente, secondo me, le piccole cose, la libertà di poter fare le piccole cose. La libertà di andare alle poste. Sì, 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 no, di viverci la nostra quotidianità. Non voglio fare la presa male, però soprattutto in questo periodo che ci sono guerre dappertutto e anche persone che insomma non si ritrovano una casa da un giorno a un altro è brutto e bisogna... Cioè, quello che mi rende felice sinceramente è questo. Poterlo fare e non dovermi preoccupare di altro. E poi alla fine cioè, la quotidianità è un po' una lotta comunque. Come? La quotidianità dico, è un po' una lotta e per acquistare la libertà è una lotta, è una strada, no? non è la libertà miniatura. Sì, ma sembra che stessi correndo dalla bomba atomica tu invece. l'idea più o meno, più o meno. Stiamo tutti un po' correndo. Più o meno lo so, stiamo tutti un po' correndo, va bene, dai. Se vogliamo mandarla avanti così. Aveva senso. Va bene. E invece, vai, gli altri rispondono a questa domanda? Gli altri che? Rimane Ludovica, Valerio e basta. Io non rispondo. un po'. Io sono più drassi, nel senso, secondo me, la libertà è di chi sa, la prende. Nel senso... Che è un po'? Eh, cioè, nel senso, vabbè, questa è una cosa un pochettino più politica, che forse deriva pure dall'educazione che ho avuto appunto nella mia adolescenza che non finisce tuttora. La bellissima dei 36 anni. Bravo, bravo. Visto come militato anche politicamente, insomma, ho sempre combattuto per la libertà, per l'uguaglianza tra le persone, insomma, che tutti potessero dire la propria, tranquillamente, senza dove i rischiati... Non c'entra nulla. Prima hai recitato Mario Brega, no? Prima hai recitato Mario Brega, no? Dello sketch. E per me mi ritrovo un po' dentro quella situazione è là, capito come? Quindi, forse è più derivata da questa la mia concezione della libertà. La libertà è di chi sa la prende. Io, sinceramente, mi sono sempre fregato del giudizio dell'atto, già da quando ero ragazzino. Considera che tutti quanti amici miei, sono tutte persone e vanno allo stadio, quelli che a Roma si chiamano i coatti. Cioè? Ero l'unico che si... O i burini, burini, burini. Esatto, no, poi per coatto, poi per coatto da borgato, ok? Io ero l'unico che andava a chi skate, che pantaloni larghi, che manette larghe, che mi sentivo Will Smith, perché ero ragazzino che avevo 12 anni e mi sentivo Will Smith su Walkman. Cioè l'hip-hop, i graffiti, la danza, la prossima. Tipo giovanotti, ti senti cose tipo giovanotti, no, poi piano piano ha preso piedi, cioè quando è... E beh adesso ormai. Esatto, esatto. Vabbè poi si cresce, erdo liere delle puglie. La libertà fa quello che si vuole. L'erdo liere delle puglie. Veramente il poter fare quello che si vuole. Se, come ha detto Marta, ancora ci troviamo in un regime tra virgolette di libertà dove ci possiamo appunto esprimere, possiamo parlare, possiamo confrontarci. Non ci vuole da nessuno. Mentre voi vi confessate i vostri sentimenti è quello di c'erdo liere delle puglie, mentre non... Ludo, invece per te? Per me... Un po' semplicemente... Una bella raglia di bamba, magari. Una bella raglia, via. Una raglia di cash, e via. E via. Non dobbiamo essere... Ce ne frega, e come? Ce ne frega, e come? Pronto il telefono? Eh, non serve, non serve, non serve. Anche dai, no, no, né cash, né cocaina, per favore. No, no, Scusa, eh, non ci piace. Non ci piace. Assolutamente. E poter fare quel... Cioè, essere liberi di essere se stessi, esprimersi di... di non... Senza... Anche se hai paura... Magari con una danza, con una bella danza. Esatto, esatto. Assolutamente. Una bella mossa anche, no? Una bella mossa. Anche se hai paura dei pregiudizi, però... Perché se... Però... Che sei libero di... Ti sentiti libero, ti senti libero. Sempre. Qual è, secondo te, se dovessi abbinare una mossa a un animale, quale sarebbe, secondo te? Un animale... Ok, un animale a caso. Un animale salvatico, magari, qualcosa che... dimmi un po'. No, 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 prima risponde lui, che siamo anche gli altri. No, io ci diciamo, vabbè, tutti, un parecchio... Io ci diciamo, la mossa del jaguaro, una skill... Una skill mia che... Poi io ti... C'è chi c'è la mossa del jaguaro, chi del puma, chi dà lì, in scienza del jaguaro. Eccola del puma è bella. Com'è quella del puma, Mario? Del puma, del puma non lo so. A Mario, a Mario. Mario la sa fare. Non serve che ci mettiamo a fare la mossa del puma adesso, ma che c***o di idea. No, ma io vedo più lince, io vedo questo occhio. Eh, vedi, sono anche molto più lince che puma, perché... fammi un po' la mossa di... In potenza puma, secondo me. Un po' di mossa del puma, dai che metto anche un sottofondo. Perché si deve... Perché si deve arrivare a fare la mossa del puma pure qua? Ma perché bisogna fare... Ah, vedi, è così. Ah, è così, mi dici pure, è così, è così. Abbiamo capito tutti qua che è così, effettivamente. Volete la mossa del puma, va bene. Certo. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Prende uno. C'è la preparazione. È una gran mossa quella del puma. Eh, no, vedi, questa mossa del puma. Questa è anche articolata. E se fai un figurone nelle feste. Scusate, ma Mario, di che cittadina è? Se posso chiedere. Mario? Mario sta a San Donato Milanese, ma è originario della Sicilia, di Messinesi. Allora, è il meglio tacco. Per meglio tacco di San Donato Milanese. Il meglio tacco di San Donato Milanese. ti ha rotto qualcosa. Ma andate a cacciare. Ho visto. Un fisso un po' provato. Io pure quando faccio questi movimenti tutto all'improvviso, pure a me fa uno sbarione strano. Dico, beh, qualsiasi nuovo devo fare. Che rapporto avete con la droga? Allora, tocchi in tasto, un tasto proprio dolente, tocchi. Dolente? Se inizia Valeria non finiamo più. Guarda, è proprio la cosa che mi ha comandato Marta. Sì, infatti, prego, Ludovica, prego. Ho visto che fumacchi te, no? Un po'. Sì, ma provate. Vabbè, cecchino di acafalla, cecchino a sormale. Non ho bisogno di essere così tanto iperattivi, comunque. È una sigarettina. Cecchino a sormale, a sormaletta, la fai con il materino e il padello. Adesso a gare. scusa. Vabbè, scusa. Vai, dimmi, dimmi, scusa. Finisce qua, la nostra, poi non ve ne fregherai. Fine. Vabbè. Ok. Voi ragazzi? Allora, rispondo io che pure io sono veloce. No, io sono, cioè, sono a favore della legalizzazione della marijuana, sia a scopo terapeutico, sia a scopo ricreativo. Ricreativo, sì. Perfetto. E credo che ci, cioè, al di là del, insomma, della cosa coliatica, c'è anche proprio tutto un discorso economico che secondo me ci potrebbe giovare, perché in altri paesi lo fa. E, detto questo, le altre, sinceramente, non le ho mai provate, non mi interessa, non ho proprio interesse, quindi non le ho provate, non mi interessa. Punto. Ci sto. Lui, dico, nonostante le abbia magari avute a contatto, perché lui ha avuto un passato un po' turbolento. esatto. Ma ha detto che era una cosa sensibile. Io vado pure tranquillamente e mi ci faccio pure il sorriso super, cioè nel senso. Minchia, ma meno male, però tu datti un cazzo, ma datti un cazzo con te. Ma lo sapevo già, ma Mario, ma sei completamente pazzo, meno male che abbiamo trovato uno con un po' di autocritica, tu sei completamente... Ma lo sapevo già, Mario, lo sapevo già. Ma io contieniti, voi siete delle merde, voi siete delle merde siete. Vai, Valerio, vai. Ma lo sapevo già. Sì, sì, certo. Comunque guarda, io c'ho avuto, ne ho parlato, cioè anche questo è il motivo per cui sono stato, sono stato sottoccio, c'era proprio la necessità di conoscere persone diverse che non stavano nel punto, nel giro della droga o che comunque si erano convolti in queste cose. Io personalmente c'ho avuto dei problemi, appunto, che sostanze stupefacenti, dall'età dei 14 anni ho iniziato subito con le droghe pesanti, con varie droghe pesanti, fino a poi arriva appunto all'età di 33 anni e che so che so accaduto, diciamo, in una morsa brutta che è quella delle oppiaci e quindi mi sono fatto cert, CSM, tutto quanto e vedi che la verità era una cosa che, cioè, è stata, io la paragono, ne avevo parlato sempre durante le live, io ne ho la paragono un pochettino, cioè le droghe che nella vita le incontri, o che ogni persona le incontra nella vita. È come in corridoio, tu puoi scegliere da aprire qua la porta o dai una sbirciata dentro e richiudela, o entrasce e poi riusci, però ci restano dei porti che se c'entri sono chiuse e le stanzi e qua la porta si chiude dietro le spalle e non riesci più a sci. io ci sono stato male e lei mi è stata tanto a fianco, cioè, io non è, non è, non, 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 lo continuo a di sempre era ai pischelli, io non c'ho, sono super antiproibizionista, quindi non ho, anche se c'ho avuto questi problemi, non ho, non ho cambiato idea riguardo alla droga, ecco, so favorevole anche alla legalizzazione della cannabis e quant'altro. Poi tante droghe già c'estanno in farmacia, quindi, lo posso dire che sto a tutt'ora seguendo un percorso terapeutico perché ancora so, non so, due anni e mezzo, tre, che sto totalmente pulito e dico, grande brother, che non è una cosa che bisognava per forza, regà, uno, e posso pure capire che uno è curioso, però quando sei, come si dice a Roma, veci infognati, poi vi ritrovate in mezzo a dei casini, a delle storie che manco immaginavate di arrivare, di criminalità, problemi, io per dirti, io ho rischiato di arrivare in TSA davanti al mio medico, al mio medico curante perché quando sono entrato al CERT succede che tu fai l'accettazione, ti fanno compilare dei moduli e dopo una settimana entri effettivamente al CERT a fare la terapia che devi fare, quindi in quella settimana sei lasciato a te stesso un po' dentro un limbo, io stando ovviamente come si dice a ruota perso, stando malissimo, andate al mio medico curante per chiedere qualcosa per calmare a me insomma, le crisi che c'avevo, non me le volete dare, e feci un casino fuori allo studio e usciti fuori i farmacisti e c'è stata una farmacia vicino col dottore, mi stavano a chiamare i carabinieri, mi stavano a fare TSO e stavo davanti a mio padre e al mio amico mio che ha vissuto la stessa esperienza che ho vissuto io però prima, quindi insomma, io diciamo che l'ambiente in cui è cresciuto è un po' particolare però credo che ci si possa divertire tranquillamente proprio conoscendo un sacco di persone ho capito che ci si può divertire pure senza per forza fare quelle cose c'è stanno persone che passano tranquillamente a giocare di giochi o a leggere se è il libro io queste cose che passioni che c'avevo le ho dovute pure tenere nascoste per tipo di vita che facevo che magari mi piacevano le cose fantasy mi piaceva magic al tempo di magic abunanza cioè stavo in un contesto dove proprio tutto cioè tutta considera che da comitiva mia su 32 persone abbiamo fatto subito rintre Dio buono comunque bro due anni e mezzo tanta roba eh sì ho avuto tutto casino tanta tanta roba io guarda vedi che la verità se non c'è stava lei eh complimenti ma anche questa sta no come c***o ma fortissimo che posso dire che è proprio brutto cioè sta avvenendo questa cosa che sta male è brutto sì è brutto però la scelta è venuta da lui chiaramente sì poi è una cosa che ho scelto io altrimenti io non avrei potuto fare niente eh però quel sorriso di supporto secondo me ha fatto tantissimo Marta Martone io non l'avrei mai detto perché quando oggi scartabellavo per trovare gente ho trovato Ludovica che vabbè era tutta simpatichina contenta e rispondeva la chat a questo sorriso a 32 anni ho detto questa me la tengo per la puntata chill tranquilla quando ho visto te che eri lì sembravi di pali e dispari non so se ti ricordi a Zeli sembravi di pali e dispari ma ti capisci che ti ho detto ma questo sembrava che stia a Kingston lo voglio assolutamente e non sembrerebbe per niente che tu abbia avuto questo passato qui è incredibile io te posso io te posso assicurare che sei che poi mentre sei eri live oggi noi non ci abbiamo creduto fino all'ultimo sì io dicevo mi sono venuti i sensi di colpa dicendo ma che sono stato maleducato con lui perché io dicevo ma lui diceva che era uno scherzo diceva no ma no perché c'è un altro botte prima ho detto a me ti pare che arriva Dario Moscia mi pare strano credo mi sono trattato un po' così e te vi ringrazio se no vi ringraziamo ancora la mia prima la prima frase che ho detto è entrato lui ecco te sei un bel drogato perfetto Dario esatto però te posso assicurare che concludo il discorso droga in file i certe rega c'è sta gente di tutte le estrazioni sociali io ho visto persone che la mattina facevano un lavoro d'ufficio ho parlato con persone che dovevano andare certe assumere la propria terapia e poi sono andato al lavoro o dovevano andare a fare la spesa o facevano la vita tra virgolette da drogato ci sono varie tipologie di persone non so a tutti quanti però come ne immaginano te come uno solo immagina capito come te lo immagini tu come vitalizzi il tossico guarda la osteodipendenza è una malattia quindi può prendere chiunque dai più ricchi ai più poveri ma certo che sì ma certo che sì e niente volevo concludere con così un attacco il missile mi pare il cavo il missile ha fatto bene a tanti secondo me è una storia bella poi queste vittorie non sono nemmeno scontate anzi mentre è facile finire in questo mondo qua che come hai detto non fa soltanto parte della sostanza in sé ma poi ti sblocca un sociale un deep sociale poi c'è la difficoltà totale di uscirne e appunto anche dalle persone che conosci eccetera quindi i miei sono complimenti da standing ovation Valerione ti ringrazio e non sottovaluto nemmeno l'impegno di di Marta che grande pure lei la cosa importante è mettere sempre il proprio cuore non serve prendermi non serve ah vero tutti uniti il primo posto per lasciarsi lo spacco perché se dobbiamo buttarla in battuta dopo aver parlato di una cosa così tanto profonda si prende per il culo me siamo sul sicuro ovviamente no no più grandi voi perché comunque il sentimento l'amore dell'amicizia è quella che bisogna non dire maggiormente immagino che sia contento anche tu Ludovica siamo contenti anche il teatro il teatro io proprio mai Ludovica ha fatto teatro anche Ludovica ha fatto teatro va bene anche io ho fatto teatro comunque anche Mario si lo dice a nessuno tra l'altro volevo soltanto dirlo perché mi sembrava il momento perfetto io speravo di fare un'altra sicura cinicità al massimo di Mario Brega lo doppia sincora cartoni di Asterix e Obelix c'è stavano i legioni romani che parlavano romanaccio stavano fissa dicevo io doppiavo io fare doppiatore di sti gladiatori e poi è passato e poi è passato no poi poi arriva dalla droga non scherzo lo sai che Mario ha fatto anche il re leone si ho fatto il re leone facevo il formichiere no facevo scar facevo scar il cattivo quello figo facevo si 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 ma poi si sta il formichiere nella savana deficiente nel re leone c'è il formichiere nonostante sia un errore del film ah ok c'è il formichiere non l'avevo manco notato ah certo c'è nel totem di animali quando cantano vorrei diventare pressurino va bene va bene grazie mille distrutto addirittura distrutto perché mi ha detto che c'è il formichiere no no voi state ecco perché voi volete tirare fuori sta cosa vabbè facciamo i saluti va f***o a te a te non agli ospiti ovviamente grazie a Cilin Factory grazie a Lupren potete seguire ovviamente ve li abbiamo fatti scoprire ma ricordatevi sempre una cosa questo è molto importante anzi la vita come ci hanno insegnato gli ospiti di oggi la vita è piena di buche buche che nascondono spiragli è un vortice che ti teletrasporta o ti occlude sta a te gettarti oppure lanciare il sasso per verificare poi l'ampiezza la lunghezza eccetera ma che cazzo ma certo che cosa ma certo il cazzo è la più brutta frase è la più brutta frase di epilogo che abbia mai parturito ogni giorno è sempre peggio ogni giorno è sempre peggio diciamo la verità come sta sta a te puoi mettere la buca per controllare l'ampiezza ma ci sta il cazzo ci sta ma non sei di Roma non è puoi capire perché lui è di Roma invece quello viene da Pisa viene io ho vissuto per tanti anni a Roma sì 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 infatti l'hai trovata l'ampiezza della buca l'hai trovata l'ampiezza della buca pagliaccio che non sei altro vabbè ciao ragazzi stay talented ciao 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 a tutti ciao ciao potete abbandonare tranquillamente la chiamata andiamo sì 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 tanto io rimango con Mario a salutare oh io Valerione cosa cazzo cazzo da ridere funziona selezionarli prima secondo me così a naso sì sì scusi con il ragazzo sono detto a naso no vabbè questo ho capito che cosa vuol dire stai tranquillo Dario ci tiene che poi non lo dico nemmeno che forse è anche peggio comunque lui lui mi dispiace per le altre il mio preferito Valerione lui che tre anni che è pulito dopo anni anni di droga che scherza sulla droga così come se fosse tanta roba ma poi faceva tipo quelle citazioni cinematografiche delle cose che piacciono pure a te vabbè a te piace un po' Marione grazie di questa puntata come al solito sì grazie a te perché comunque ci siamo divertiti questa è la voce di Dario quando vuole fare l'affettuoso e non ce la fa si nasconde la faccia è un piccolo gesto d'affetto lo apprezzo Dario ero settato sai il mio cervello un po' strano ero settato sul cazzo a un certo punto sono andato in tilt perché la storia era molto emozionante ero molto provato se rivedete il video ero un po' stunnato e solo che il cervello è andato un po' in tiltino stavolta perché ero programmato per una cosa e non mi aspettavo sta botta emotiva improvvisa era vabbè data così sì sì ma secondo me vabbè dai salutiamoci salutiamoci no secondo te dai che devo dire piccati in culo l'ampiezza delle buche andate e vattene a f***a no anche mentre sto vedi questa cosa quello è un movimento che decidi tu non è assolutamente qualcosa di possibile a livello di spasmo secondo me nemmeno comunque mi hai fatto così mentre stavamo facendo la frase d'epilogo quindi vai a f***a e basta sì 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 bravo mi puoi dire per favore cosa stavi dicendo ci funziona fare selezionarli prima perché hai naso per queste cose hai naso per queste cose sì perché è drogato l'ex tossicodipendente no non c'entra nulla l'ex tossicodipendente Dario non c'entra nulla Valerione ho detto questo perché hai naso per per ragazzi se volete creare uno scandalo mentre quello si toglie dalla bocca l'inesistenza fate pure io sto qua ad ascoltare a farmi trovato voi che ridete non avrete mai la mia stima mai mai distrutto no comunque stai distrutto nella testa e distrugge anche tua madre quando la vedo oh lascia sta Titti ma che Titti non stavi insultando Titti ah sta calmo Mariochino comunque dato che io ho il naso per queste cose prossima volta ti conviene cercarli a te ce l'abbiamo ancora più alti gli ospiti la senti? la battuta sul naso dopo avermi chiamato Mario ciao Mario buona serata a tutti ciao Darione che c***o vuoi? meno meno se la fai lascia stare ciao 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 demolito nello spazio tempo si aggiungiamo spazio tempo perché perché fa ridere Flippo complimenti